cecilia ignazio sono a trento e stanno mangiando in un posto fantastico ignazio le mette fagioli così può fare le scorigine sicuramente io sono un po di parte perché voglio troppo bene questa famiglia ma vi garantisco non solo perché li voglio bene che sono i tortei più buoni del mondo confermi assolutamente confermato che torte via fetati anche il capo due fagioli e scoraggine fai sempre non è vero comunque questo comunque sono sempre un essere umano anche se non lo sembra non sono bene queste cose buonasera finiamo sera volevamo fare una recensione di come lei ha mangiato oggi in questo bellissimo posto veramente simone ma guarda sono un abbiocco abbastanza aggressivo quindi quindi vuol dire che ha mangiato bene tanto tanto bene e molto consiglieresti questo posto personale molto competente il posto è veramente bello le scorigine d'altronde anche lei è umana simpatico ignazio